Here we go! Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, nine's out! Il primo flash di Sacramento è quando sono entrato in quell'arena. Spaziale, bello. Bellissimo. Tu che premio hai vinto ai mondiali? Terzo classificato. Young Batch. Under 35. Tra gli under 35 di tutta la competizione tu sei arrivato? Terzo. Importante, no? Ho voglia. Ciao amici di Bracemi ancora, questo ragazzo si chiama Claudio Fidone, è un macellaio di Modica, provincia di Ragusa. Siamo in Sicilia. Lui fa parte della Nazionale Italiana Macellai e ha partecipato con successo agli ultimi mondiali di macelleria che si sono svolti negli Stati Uniti. La sua storia è molto bella e per raccontarvela sono andato a trovarlo nella sua macelleria. Da Modica al tetto del mondo. Suona bene. Bello. Tu mi hai detto prima che da ragazzino volevi fare il barman. Da ragazzino volevo fare il barman. Avevo questa ambizione, sono diplomato alberghiero, ramo sala bar, quindi volevo fare il barman. Poi la mia strada si è volta ad altre direzioni. Un po' per amore, un po' per passione, un po' perché mi ci sono ritrovato nel mezzo. E quindi di questo mestiere me ne sono fatto fare un'arte, me ne sono fatto un'arte e mi ritrovo qui oggi. Primo ricordo che ti viene in mente di Sacramento? Il primo flash di Sacramento è quando sono entrato in quell'arena. Bello. Spaziale. Bellissimo. Wow, ci sono. Sono qui quando hanno pronunciato il mio nome. Lì è stato il momento più bello dove non sentivo più le gambe, ho cominciato a tremare. È bellissimo. Là ci sono attimi che non ricordo. Tu sei originario di una cittadina siciliana che conta 35.000 persone. 35-38.000 persone, sì. Ti sei ritrovato grazie alla tua tenacia, no? Alla tua forza di volontà, al tuo sacrificio. Sì, ci ho creduto, ci ho creduto. Esattamente dall'altra parte del mondo. Sì, esattamente. Noi siamo qui, ho fatto il giro di tutto il mondo alle spalle. Per andare là e farti applaudire. Sì. Un applauso così ti ricorderai tutta la vita. A voglia. A voglia. Bellissimo, bellissimo. Tu sei un simbolo, no? Il sacrificio paga. Il sacrificio paga, sempre. Ah, si può dire? Sì, si può dire. È così. Io sono pienamente d'accordo che sia così. Perché i trofei comunque non vengono così. Sono frutto di tanti sacrifici. Per arrivare a Sacramento ho fatto un anno di allenamenti tosti, duri, di cazziate, si può dire, di rimproveri, di abbandonare e lasciare la famiglia per andare a allenarmi, di abbandonare il lavoro per gli allenamenti. Però poi si raccolgono i frutti. Che cosa hai imparato da questa traversata dell'oceano? Allora, intanto mi sono portato tanti amici. Tanti amici di tutto il mondo. E come dico sempre, io l'umiltà premio. Perché ho conosciuto e ho imparato tante cose perché sono un ragazzo umile e quindi sono apprezzato forse anche per questo da tanti colleghi. Ed è stato bello così. Ma quello che è più bello è portarti un po' di tutto il mondo come amicizie, come culture, come arte. Senti, ci sta una voglia di fare il macellaio oggi in Italia? Poco. La nuova generazione non vuole imparare questo mestiere perché secondo me è troppo pesante, troppo, non lo so, ma è un'arte che va custodita perché veramente è bello. Bravo, hai detto bene. Un'arte che va custodita. Se non la custodiamo che succede? Succede che tutti diventiamo macellai e tutti diventano, no macellai, rivenditori di carne. A breve saremo tutti rivenditori di carne ma senza macellai. E che differenza c'è tra un macellaio e il rivenditore di carne? La differenza secondo me sta che il macellaio conosce la bestia dall'inizio fino alla fine, fino a quando la va a vendere alla massaia finale. Il rivenditore di carne ha quei tagli lì, ci arrivano i tagli, mette al banco, li fa a fettina, li vende, non sa manco che taglio stiamo vendendo e che cosa serva. Dunque vedo che qui ci sono parecchi attestati di partecipazione a giornate formativa. Sì, qualcosina. Studi? Studi. Non ti tiri indietro? No. Ok. Senti, mamma e papà ti danno una mano? Sì. Moglie pure? La moglie è dietro le quinte e che è quella che ci sostiene di più, diciamo, la mia mental coach. Mi piace chiamarla mental coach. Devo tanto, veramente tanto a mia moglie, colui che mi ha fatto intraprendere questa strada, che è il mio suocero, che mi ha aiutato tantissimo a inserirmi nel mondo delle macellerie, a conoscere gli animali, a conoscere quello che è il mondo della carne. Allora, il prodotto che mi rappresenta di più di quello che vado fiero è questo qua. Questo è il nostro cannolo siciliano. Un cannolo fatto con tritato, pasta sfoglia e cioccolato modicano. Fantastico. Quindi è stato studiato, è stato assaggiato, abbiamo fatto diverse prove fino ad arrivare al risultato finale, che è questo. Questo va in forno a 160 gradi per 20-25 minuti. Cioccolato modicano. Cioccolato modicano, fantastico, che non si sbaglia la caratteristica del cioccolato modicano. Dove andiamo adesso? Adesso andiamo a vedere gli animali. Perché, una cosa importante va detta, tu lavori? Solo ed esclusivamente vitelli di nostra produzione, di mio cognato. Ok. Sempre in famiglia e rimaniamo? Sempre in famiglia e rimaniamo, perché noi ci occupiamo della filiera a 360 gradi, dalla nascita all'allevamento, alla macellazione, fino ad arrivare nelle nostre botteglie. Con chi andiamo? Col pick up? Tu gli animali li prendi qua? Qua. I tuoi animali vivono così? Così? Questi sono i nostri animali. Vivono così, al pascolo, rilassati, fanno quello che vogliono. Mangiano, bevono, escono. La prima volta che sono stato in macelleria è stata nel 2005. Avevo quasi 18 anni. Sono passati quasi 20 anni. Sì. In 20 anni? Com'è cambiato il rapporto del cliente con il macellario? Si è evoluto. Prima non era così. Prima la gente acquistava la classica fettina, il classico macinato. Adesso è più evoluta la macelleria. Allora, prima ti chiedevano la fettina. Adesso la fettina la vogliono essere trasformata in un prodotto che è diverso dalla fettina. Magari sempre un prodotto fatto con la fettina, ma magari servita in un modo diverso. E a te come piace di più? Come era una volta o adesso? No, meglio adesso. Meglio adesso perché c'è un'evoluzione. C'è più soddisfazione. C'è più soddisfazione nella lavorazione della carne stessa. Una delle mie soddisfazioni più grandi è che sono partito da zero. Forse nemmeno io ci credevo fino alla fine di diventare quello che oggi sono diventato. E quindi di portare e accumulare tanti successi. Questo è quello che mi fa onore e mi fa più soddisfazione. Beh ragazzi, scommetto che dopo aver conosciuto Claudio vi è venuta voglia di andarlo a trovare. A me personalmente persone così piacciono da morire. Ti trasmettono fiducia e passione. E da Claudio io mi farei servire ad occhi chiusi. Se invece siete troppo lontani iniziate a seguirlo sui social. E chissà poi magari dal primo viaggio in Sicilia una tappa modica si può tranquillamente organizzare. Bravo Claudio. A nome di brecce mio ancora ti abbracciamo fortissimo. Continua così. Non vediamo l'ora di festeggiare una tua nuova vittoria. Allora adesso tuo fratello non ci sente. Dicci un po' quanti racconti ti ha fatto quest'America? Quanti racconti ti ha fatto? Ci ha riempito la testa. L'ha fatto. Quanto ve l'ha fatto? No, non glielo dire. Non glielo dire. No, non glielo dire. Una capoccia così. Così. Però se l'ha meritato no? Ovvio. Sì, sì. Tanto. Tutto sommato. Tanti sacrifici. Tanti. Ma quando lui non c'è stato qui tutta festa immagino. L'ansia. L'ansia. Perché lui mandava messaggi videochiamati. Stiamo facendo questo, stiamo facendo quello. Sono qua con, sono la con. Vabbè però. Mi rendeva partecipe sì. Mi rendeva partecipe. Va bene. Com'è lavorare con tuo fratello? L'ansia. 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 È tutta l'ansia. L'ansia però bello. Claudio Fitone ha detto ansia. Claudio Fitone ha detto ansia. L'ansia sì. L'ansia in persona. Però noi glielo diciamo. No glielo diciamo. Va bene. Grazie Adriana. Sorella di Claudio. Ssss. Noi glielo diciamo. È qua. Ciao Claudio. Tu non fa la spia? No no. Non va niente. No no. Ottimo. Sape. Però fratello.